Il volo di un aliante non dipende da un motore. Il cielo è un grande salvatore di energia e quando hai l'energia hai tutto. La mia vita comincia a 1200 metri a terra, dove l'aria è più rarefatta e dove finalmente si respira con il cuore e non con la bocca. Sono Luca Bertossio, pilota di aliante acrobatico. La mia vita comincia a 500 metri a terra, la mia vita comincia a 500 metri a terra, La mia vita comincia a 500 metri a terra, dove l'aria è più grande. E' almeno direttamente a basil婆, la mia vita di via l'aria è più grande maggiore diиль senso. Saper trasformare l'energia del vento e concentrarsi per disegnare il cielo. Questa è l'acrobazia inaliante, sintesi di perfezione.